Dopo le ultime due edizioni dedicate alla terra e all'aria, il maggio dei monumenti 2024 sarà dedicato all'acqua, elemento con cui riscoprire e attraversare la città. Dal mare alle sorgenti, dalle fontane ai bacini artificiali, dagli acquedotti alle piogge, dai fiumi sotterranei agli abissi, l'acqua assume la forma di ciò che la contiene e allo stesso tempo modifica, cascava, agisce sui luoghi e sulle idee. Dunque un elemento fisico ma anche simbolico che nella tradizione napoletana ha ispirato miti, leggende, canzoni e romanzi. Con più di 300 appuntamenti, dal 3 maggio al 2 giugno, si ripete la storica manifestazione del maggio dei monumenti, giunta alla trentesima edizione. Aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori, performance e una mostra diffusa, articolata in cinque sezioni. Un appuntamento fisso che racconta l'eredità secolare di Napoli, proprio in un periodo di piena affluenza di turisti. E saranno coinvolti anche tanti enti pubblici e privati come l'ABC, la Stazione Zoologica Anton Dorn, l'Istituto Italiano per gli Studi Storici, l'Università Federico II, la Società di Storia Patria, musei, scuole ed associazioni.